Parla il fox, il nostro Casanova. Del bozzettino Casanova. Casanova è conosciuto in tutta la città, specialmente dalle donne che impazzire lui fa. Fiori rose ed orecchini per loro comprerà, ma ottenuto quel che vuole in asso lui le pianterà. Casanova questa scena sta appuntando proprio a me, si avvicina sorridente, elegante come un re. Baccia a mano ed un sorriso, poi mi scrive una poesia, io rimango indifferente, giro i tacchi e vado via. Casanova, ogni donna vuoi baciare, Casanova, ogni cuor sai conquistare. Casanova, ma io no, non cederò, no. Casanova, ai tuoi piedi non cadrò. Con le rose e gli orecchini, il mio amor non comprerà, questa volta Casanova, solo a casa tornerà. Casanova, ogni donna vuoi baciare, Casanova, ogni cuor sai conquistare. Casanova, ma io no, non cederò, no. Casanova, ai tuoi piedi non cadrò. Casanova, dedicatissima a Claudio. Casanova, casanova, ma io no, non cederò, no. Casanova, ai tuoi piedi non cadrò. Casanova, ogni donna vuoi baciare, Casanova, ogni cuor sai conquistare. Casanova, ma io no, non cederò, no. Casanova, ai tuoi piedi non cadrò. Casanova, ogni donna vuoi baciare, Casanova, ogni cuor sai conquistare. Casanova, ma io no, non cederò, no. Casanova, ai tuoi piedi non cadrò. No, no, non cadrò. No, 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 non cadrò. Casanova, la voce di Lara. Grazie. Grazie.